Buongiorno a tutti, questo oggi vi porto in mezzo alla natura, sì perché sentite ci sono gli uccellini, ma vi porto a scoprire una zona poco conosciuta di Como e siamo, lo vedete, sotto il castello Baradello e siamo di fronte praticamente all'istituto San Carpoforo, questo qua, questa è la basilica di San Carpoforo, ce la fate vedere anche spesso all'interno, la nostra amica Loredana che salutiamo, quello è il Baradello, visto da sotto. Buongiorno Teresa, buongiorno Virna, buongiorno Stefano, saluti anche a Silvia, sempre presente, ciao Silvia, Cristina e Sandra, ma anche Simona, buongiorno, e anche Giancarla, un caro saluto a voi, buongiorno Simona, ciao Italo, buongiorno, buongiorno, in zona dicevo poco conosciuta, ciao Luigi, ciao anche a Franca, zona dove ci sono anche dei segni abbastanza inequivocabili, ciao Cinzia, ciao Rudy, Emanuela, Antonia, un saluto a te, ad Angela, a Orazio, da Canossa e a Loredana, eccola, ah sì, la nostra amica Loredana, ciao Loredana, buongiorno, a te, a Rosina, a Paola, a Valeriana, ad Enrico, a Maria Grazia e a Damiano, buongiorno ragazzi, ciao anche a Luisa, un bellissimo cielo azzurro, guarda che bello oggi, e poi Agostina, da Milano, oggi lo smog alla meglio, giornata, sole e malato, Antonia, Gloria, Giuliana e Marina, poi c'è anche Rita che ci saluta, un abbraccio, un saluto anche a Meri, buongiorno Meri, allora ecco, la vedete, ciao Donata, questo è un sentiero che anni fa veniva percorso, è l'inizio del parco della Spina Verde, bellissimo questo sentiero, in salita e poi anche in discesa, Rita, Meri, Donata, Carmen, buongiorno a te, oggi sì, abbiamo, guarda, è nato adesso il sole, non è che bello, proprio qui davanti a noi, Gabriella, questo sentiero, e devo dire, ciao anche a Rosa da Como, buongiorno signora Rosa, un saluto anche a Elisabetta da Monza, buongiorno Elisabetta, saluto a te a Fernanda, ecco dicevo, questo sentiero che vedete è percorribile, è stato pulito poche settimane fa, e lo voglio dire pubblicamente perché sono delle persone meravigliose, dagli uomini della protezione civile del gruppo Alpini di Como, il gruppo Ana di Como, cappeggiati dall'amico Fontana, Roberto Fontana e tanti volontari, hanno fatto un lavoro bellissimo, qui, Loredana ce lo può dire perché lo conosce bene, poi ciao a Davide, Fernanda, Mauro Luisella, Ruggero e Paola da Ferrara dove ci dice tanta nebbia, va che stridore Paola, qua da noi c'è un cielo azzurro, non c'è una nuvola e da te c'è la nebbia, e succede così, ciao Ornella, Gisella, Anna Rosa, Rosella buongiorno, bello passeggiare, mi fai vedere posti che non conoscevo, bene sono contento, buongiorno anche a Cosimo, a Monica, a Montalbano che è la giornata mondiale del sonno, bene allora, ciao Monti, Antonia, Giuseppe, Rosa, Maria, Chicco, Salvatrice ed Enrico, saluti da Calvisano, ciao un saluto a te, un saluto a Nonna Agnese, a Daniela, a Monica e a Giacomina, ma anche Emanuela, quel sentiero era proprio impercorribile, è vero Emanuela è vero, qui non si poteva passare Emanuela, hai perfettamente ragione visto che lo conosci bene, che spesso vai a fare delle passeggiate, Anna Rosa e Silvana buongiorno, ecco Cosimo bravo, bisogna fare i complimenti anche a chi, in maniera del tutto volontaria, ha fatto una pulizia pazzesca, quindi il gruppo protezione civile, il gruppo Ana di Como, Roberto Fontana è il presidente, lo conosco, una persona che si dà da fare tantissimo, ecco lo hanno ripulito, guardate, lo hanno restituito alla città ed è assolutamente percorribile, questo è uno dei sentieri che riporta alla Spina Verde, ma soprattutto ecco volevo mettere in evidenza che non è sempre tutto scontato e quindi bravi i ragazzi, gli uomini e le donne, perché ci sono anche delle donne del gruppo Ana di Como, della protezione civile, lo hanno ripulito e restituito alla città, non si, come ha detto Emanuela che lo conosce, non si poteva percorrere questo sentiero, era impercorribile e loro sono stati veramente bravissimi, ecco questo è il San Carpoforo, lo vedete dietro di noi, questo qua è il San Carpoforo, lo abbiamo visto all'interno con la nostra amica Loredana, ciao Roberto, Anna, Carmela e Cosimo, bravi, bravi davvero questi alpini, Cosimo, Raffaella e Massimo che ci scrive da Bormio, a lui va un caro e affettuoso saluto, ci ha parlato ieri, ciao Massimo, un abbraccione a te, da Bormio, Alberto, Valeria, Lorenza, Cecilia, dalla Svizzera, Attilio, è una zona bella, un polmone verde, proprio sulla città, perché qua sotto, Italo, sotto di noi c'è la città, qui anzi forse si vede anche, aspetta, questa, sì ecco, le case che vedete qui, ciao anche a Florida, guanzate, giornata stupenda, sono d'accordo, sì sì, buongiorno Ines, la zona che vedete, le case, è Mugio, quindi siamo praticamente, qua è Camerlata e qui anni fa praticamente c'era l'ospedale Sant'Anna, ecco siamo sul retro dell'ospedale, del vecchio ospedale Sant'Anna a Camerlata e non si poteva percorrere assolutamente, un sentiero molto molto bello, anche facile, da parte la salita iniziale, ecco vedete, qui siamo arrivati nella zona proprio di San Carpoforo, vedete, ecco questo appunto, e questo è l'istituto San Carpoforo, questo è l'ingresso dell'istituto San Carpoforo e questa appunto è la zona, ciao, buongiorno, c'è la nostra amica Loredana, e si è ancora a letto Loredana, va bene, resta a letto, ciao, buongiorno, ti saluto, con il telefono in mano, ciao, buongiorno, ciao Loredana, buongiorno, ciao, è bello, va bene, abbiamo visto anche una delle nostre telespettatrici, lei che gestisce la basilica e vi fa fare le visite alla basilica di San Carpoforo, ecco, questo è il sentiero, volevo farvelo vedere perché, ripeto, non è nulla mai discontato e sono stati bravissimi gli alpini, con il loro lavoro tutti i volontari, hanno impegnato tante giornate, lo hanno ripulito benissimo, non si poteva passare, ora è un sentiero, veramente, bravi complimenti, volevo anche mettere in evidenza alcune delle piccole cose quotidiane, sai, a volte poi si dà tutto per scontato, si fa, beh, sì, può essere, ma non è mai così, quindi è giusto magari che pubblicamente si facciano anche i complimenti a chi lavora sempre magari dietro le quinte e magari anche una pacca sulla spalla, loro fa piacere, quindi bravi, 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 ciao a Caterina, Cinzia che ci dice che è in i sette e mezza, bene, Paolo da Saronno, e in effetti suonano le campane, Paolo da Saronno un saluto a te, a Rosalia, a Gianluca, a Giovanni, a Renato, al poeta, Mario, ah Mario ma non ho scritto, non ho visto nulla, aspetta, Cristina, Marilena, Carmen, Romeo, Fabio, ciao Fabio, Graziella e poi Flora, Ines, Anna Maria, Malvina, Rita, Flora, Orazio, Margherita dalla Sardegna, Simonetta, Valeria, Lorenza, Cecilia, Raffaella, Cosimo, Anna, oh Mario non so se mi ha sfuggito, chiedo scusa se non hai scritto, bellissimo, ciao Cristina, ciao Margherita, ciao anche al Fritz di Erba, Enrico, Marco, noi di aprono la chiesa di San Provino, piazza Roma, giuro devo chiederlo, non lo so, può essere, non l'avevo sentito ma non lo so, ok, a parte a fianco del cancello dell'istituto ho capito, ecco perfetto Cosimo, complimenti per la pulizia, bravo Luigi, bravo, sì sì perché ripeto loro hanno fatto un grandissimo lavoro e poi buongiorno anche a Luigi, a Samantha e a Dolores, vedo dei posti che non ho mai visto, buon mercoledì grazie, buongiorno a te Dolores, un abbraccio, ecco è vero l'ho detto prima, questo è un posto che pochi hanno visto, pochi conoscono ma è veramente bellissimo, abbiamo visto anche la nostra amica Loredana, ha detto che era ancora a letto ma ci stava guardando, ciao la salutiamo ancora, ciao anche ad Elina, buongiorno da Palosco, Bergamo, Giuseppe, ciao Stefano, eh sì complimenti davvero ai volontari, gli uomini della protezione civile del gruppo Alpini di Como, gruppo Ana, bravi e hanno fatto un gran lavoro, adesso è percorribile, adesso si può scendere e da qui se si scende si vede in parte anche la nostra bella città in una giornata splendida come hanno detto i nostri ascoltatori, Penelope, Tommy, Mario, poeta, grazie alle persone che hanno girato, si sono girati indietro le maniche, si sono dati da fare, eh poeta hai ragione, si sono veramente dati tanto da fare, tra l'altro hanno tagliato vedete tutto, perché c'erano rovid e hanno portato via tutto, quindi bravi davvero, Penelope, Silvio, Savina, buongiorno Savina, buongiorno Mara, un saluto ancora alla nostra amica Margherita, Silvio da Binzago, Montabrianza, abbiamo tanti amici anche fuori provincia, ciao Silvio, grazie a te, un saluto a tutti e questa è la parte iniziale, adesso in discesa, a farla in salita è abbastanza impegnativa, del sentiero di San Carpoforo, della Spina Verde, siamo comunque all'interno della Spina Verde, sopra di noi, lo abbiamo visto in precedenza, c'è il Castello Baradello e qui più avanti c'è proprio la strada che porta su al Baradello, anche lì strada percorribile a piedi perfettamente, Lidia, il focacciaro, siete pronti per la degustazione, Roby quando vuoi, domani o dopo, noi siamo assolutamente pronti per fare il buongiorno goloso con le tue colombe, ciao Roby, Fernanda, Adriana, Dolores che saluta la Sciura Ornella e la Sciura Rita e poi Ornella dalla Calabria, Adriana che scrive dalla Brianza, da Missaglia e l'altra Ornella, allora sette e mezza sono già passate, vi faccio vedere velocemente dietro gli alberi la città che è sotto di noi, da questa prospettiva molto molto bella ma soprattutto bellissimo questo sentiero, ciao Isabel, buongiorno, Maria, Ornella, poeta l'abbiamo salutato, Adriana, Cristina, da dove sei partito? Cristina si parte o da sopra, da San Carpoforo, proprio da dietro l'ex ospedale Sant'Anna, quindi si parte o da lì, ciao anche a Diego, un saluto ciao Diego che bello trovarti, Emilio e Anna Cassano Dadda e anche a Rudy, anche la Valbasca hanno pulito, è vero, anche il sentiero della Valbasca, Rudy, un giorno lo faremo assieme io e te, nei prossimi giorni appena sarà bello, Rudy ti aspetto, dona tela e dicevo si parte o da San Carpoforo o da qui nella salita che sale da San Rocco, da Piazza San Rocco a un certo punto c'è scritto via Castelbaradello e la vedete, siamo qua all'inizio, è tutto ripulito, perfettamente percorribile, ciao a tutti, grazie, buon mercoledì, ciao, mi sono perso l'inizio, da dove si prende sto sentiero ma è segnato, è segnato, si direi, comunque quando sali da San Rocco, Fritz, lo trovi, c'è scritto via Castelbaradello, da destra si va verso il Baradello, lo prendi dritto e vai su e arrivi su, oppure lo si prende dalla parte opposta, dalla zona di San Carpoforo e come in questo caso si scende, ciao anche a Flavio, buongiorno a tutti, ciao Fritz, fallo perché ne vale la pena, ciao ragazzi a domani.